Tutti campioni, storie e percorsi verso la straordinarietà. E questo il titolo del convegno che si terrà venerdì 3 dicembre alle ore 17 all'hotel Excelsior di Pesaro. Ad apparecchiare l'appuntamento il Lions Club Pesaro della Rovere e il Leo Club di Pesaro che ospiteranno i racconti delle straordinarie storie di tre sportivi d'eccezione quali sono ultramaratoneti capaci di imprese prodigiose. I 100 posti nella sala dell'Excelsior sono praticamente già sold out ma il convegno sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook di Rossini TV, partner dell'iniziativa. Per noi lo sport è molto importante in quanto appunto si inserisce proprio tra i pilastri dell'etica lionistica. È uno stimolo soprattutto per i giovani. Infatti questo evento è condiviso con i giovani Leo. Il convegno promosso da Stefano Sanchioni, insignito di una delle massime onorificenze lionistiche come il riconoscimento Melvin Jones, gode del patrocino del Comune di Pesaro, delle sponsorizzazioni di Euroterm e Unicam e accenderà i riflettori sulle storie degli ultramaratoneti vincitori di competizioni internazionali come Marco Olmo, Paolo Barghini e il pesarese Davide Vitali, trionfatore alla recente Ultra Race in Romania. Relatori del convegno anche il biologo nutrizionista Steven Tamburo, che si concentrerà sui valori della corretta alimentazione, e Cristina Piccinotti, giornalista sportivo esperta internazionale di running. Fra gli obiettivi del convegno quello di trovare nel racconto di grandi imprese uno stimolo ad un'attività sportiva che deve essere alla portata di tutti. Abbiamo preso come occasione questa vincita, questa vittoria di quest'estate in ultramaratona importante, non capita tutti i giorni e non capita a tutti. Siccome sono di Pesaro abbiamo pensato di portare un messaggio positivo che è quello che avevo in mente da tanti anni, ovvero si può fare attività sportiva a ogni età, anche se uno ha più di 50 anni, io ne ho 55, e anche alimentandosi bene questo può far bene alla mente e al fisico. Quindi facciamo attività sportiva, è una cosa utile e magari con l'occasione di questo evento racconteremo un po' di storie, anche perché le ultramaratone sono sempre gare ma sono anche avventure e capita di tutto.